Vediamo Klaus ragazzi, parte con King e Queen ad ore 3, tanca lo scattershot con un goal in mais per cercare di salvaguardare quando ha più vita possibile alla Cem, utilizza una pozione scheletri la Cem abbatte l'artiglieri Aquila, mamma mia Sputadronchi che dà una mano ad abbattere tutti gli arcieri appena usciti da dentro il castello del clan, forse la Sputadronchi riuscirà con ieri all'interno a portare a casa anche, mamma mia quella inferno centrale, vuolo l'utilizzo ragazzi, vuolo il plan per portarsi doppia a veleno dai dai dai, mamma mia, va con la lalo direzione tovolo, gela due volte il tovolo così da far avvicinare quanto più possibile le mongolfiere, così grazie a puria, abilità del warden, ce la faranno, mamma mia ecco qua adesso tutto può accadere, tutte le mongolfiere rimangono bloccate con la trappola tornato sotto la veleno del tovolo, ottimo, ottima hit da parte di Klaus, davvero complimenti a Klaus baby